Buongiorno a tutti ragazzi. In questo quesito vediamo che è data una certa quantità t data dal prodotto di questi tre integrali. Vogliamo sapere quale delle seguenti affermazioni è corretta? t è uguale a 0, t è minore di 0, t è maggiore di 0 o non esiste un valore di t. Andiamo a vedere insieme la nostra soluzione. Questa quantità è data, abbiamo detto, dal prodotto di questi tre integrali. Quindi chiamiamo A, B e C, le tre parentesi, andiamo a studiare il segno di ognuno dei fattori che compongono t, in modo da studiare poi il segno di t. Prendiamo il primo integrale, è l'integrale da meno pi greca mezzi a pi greca mezzi del coseno di x in dx. Questo è un integrale ben definito, infatti abbiamo una funzione integranda coseno di x che è una funzione continua, a maggior ragione nel nostro intervallo. E se andiamo a disegnare, vediamo inoltre che nell'intervallo meno pi greca mezzi pi greca mezzi la funzione coseno è positiva. Quindi, non cambiando segno la nostra funzione all'interno dell'intervallo, possiamo dire che il risultato di questo integrale, A, quindi, è maggiore di 0. Andiamo a studiare adesso il secondo integrale, B, integrale da pi greco a 2 pi greca del seno di x in dx. Anche questo è un integrale ben definito. La funzione integranda sen x è continua. Andiamo a vedere il disegno e vediamo che, inoltre, il disegno da pi greco a 2 pi greco si trova nella parte negativa delle y, quindi il fattore B è negativo. Consideriamo adesso il fattore C, l'integrale da 0 a pi greco ottavi di 1 fratto il coseno di 3x in dx. Anche questo, meno immediato, riusciamo a vedere che è un integrale ben definito. Dobbiamo vedere che non si annulla il nostro denominatore all'interno dell'intervallo di integrazione. Il coseno di 3x è infatti diverso da 0. Vediamo quali sono le soluzioni coseno di 3x uguale a 0. Sono date da 3x uguale a pi greco mezzi più k pi greco, cioè x uguale a pi greca sesti più k pi greca terzi. Quindi tra 0 e pi greco ottavi è sicuramente diverso da 0. Quindi la nostra funzione integranda è una funzione continua nel nostro intervallo. È inoltre, all'interno dell'intervallo positivo, il segno di 1 fratto coseno di 3x. C è quindi maggiore di 0. A questo punto, concludendo, noi abbiamo T che è dato dal prodotto di A per B per C, A maggiore di 0, B minore di 0, C maggiore di 0. Risulta quindi che T è minore di 0. Posso dire che la risposta esatta al quesito è la B. Perfetto ragazzi, spero che sia tutto chiaro, spero che vi siate divertiti. Ci vediamo domani col prossimo quesito. Buona serata a tutti!